è incredibile quante notizie e leak siano scendo in questi giorni tanto è vero che l'idea di base era riuscire a fare un TG Lego una volta a settimana nel caso ci fossero abbastanza notizie e invece siamo qui che devo anticiparlo perché veramente si sta parlando troppo magari di alcune cose che è bello vedere con voi per la prima volta partiamo dalle immagini della fuga del tiranosauro in uscita il 17 aprile di cui vi avevo parlato settimana scorsa ma veramente il giorno dopo sono uscite invece le immagini vere, ufficiali sono 1212 pezzi, 100 euro tutto confermato quindi sono molto, un set molto molto bello che non si sposa secondo me benissimo con quello originale per via di questa placca, questa base sotto che però unisce veramente due delle scene iconiche di Jurassic Park e quindi secondo me è una roba meravigliosa molto simile a set di collezionismo che si trovano in giro non lego abbiamo poi l'antro di Boba Fett, le immagini ufficiali, ancora non è stato annunciato ufficialmente però le immagini sono ovviamente, ne abbiamo di più dell'altra volta che era solo un lichettino come possiamo vedere è molto giocoso, molto dettagliato, set non esageratamente grande immagini ufficiali credo anche annuncio del tal Mac di Horizon Zero Dawn che apre secondo me espiragli su varie possibilità, ovvero accordi con Sony sui loro videogiochi oppure una serie magari dedicata direttamente ai videogames questo è il 76989, sono 1222 pezzi, costerà 80 euro ed è in uscita, non me lo sono scritto ma mi pare maggio, primo maggio questo lo trovate comunque sul sito ufficiale, non preordinabile, solamente alcune cose tipo la fuga del tirannosauro sul sito lego americano erano già preordinabili abbiamo questo di stamattina, quindi freschissimo, un leak della Vespa che era in atteso 10298, 1106 pezzi, anche questo dovrebbe uscire tra aprile e maggio ma non ne sappiamo molto, visto che è già scatolato probabilmente più aprile che maggio se proprio dovessi scommettere marzo no, perché veramente gli annunci di marzo al momento sono veramente tanti rumor super bomba, uscito domenica, invece anche molto inaspettato si parlava di una nuova serie che doveva uscire, non credo neanche sia questa ma questo è l'Optimus Prime, il 10302, 170 euro, 1508 pezzi uscirà di questo si sa con una placca simile all'UCS di Star Wars avrà un jetpack e armi e la cosa più figa è che è un vero transformer quindi si potrà trasformare in camion in questo caso senza però doverlo smontare e rimontare quindi avrà veramente un meccanismo di trasformazione anche qui potrebbe nascerne una vera serie vi faccio vedere adesso i set scatolati vi do un'informazione e ve li faccio vedere dei set che sono stati bocciati dal programma Lego Adias dove aver raggiunto 10.000 voti ma che Lego da qualche tempo presenta su Bricklink con una sorta di programma kickstart mettiamo là quindi vanno finanziati se raggiungono un certo numero di prenotazioni vengono scatolati e messi in commercio gli ordini che sono stati piazzati a luglio 2021 arriveranno a marzo 2022 mentre gli ordini che sono stati nella seconda fase invece accettati ad agosto perché a un certo punto hanno aumentato le disponibilità arriveranno a giugno 2022 questo era un messaggio ai naviganti vi faccio vedere adesso come vi avevo promesso tre progetti Lego Adias molto interessanti che non hanno ancora raggiunto i 10.000 voti vi ricordo che sotto al video nella descrizione trovate il link a tutto quello che si può linkare in modo che se volete andare a dare un voto a questi set magari ci andate il primo è la Polaroid che trovo eccezionale poi abbiamo l'Atari 2600 ovviamente ai link trovate anche maggiori immagini io cerco di fare questo format anche il più breve possibile per non farne un video lunghissimo perché io non sopporto i video lunghissimi ma ditemi voi nei commenti se volete diversamente l'ultima è la Rolls Royce Phantom 1 che è eccezionale veramente tre super progetti un progetto che invece 10.000 voti li ha raggiunti è il Data 3 credo di un ragazzo italiano davvero molto molto bello speriamo che in futuro Lego accetterà questo progetto vi faccio chiudiamo con un paio di cose custom perché tra l'altro ne ho comprata una relativa a Breaking Bad e una IT ma l'avete visto negli short di YouTube se qualcuno è interessante è interessato questo su Etsy è un attore si chiama Moxmaker e fa delle cose molto carine qui me ne metto giusto tre ma veramente un attore eccezionale a volte questi negozianti vendono semplicemente il progetto a volte il progetto ma anche costruito con i pezzi oppure da montare con i pezzi state molto attenti nelle descrizioni l'altro invece è uno YouTuber si chiama Waller Customs che ha messo online le istruzioni per costruire questo set piccolino dedicato a Mr. Bean molto simpatico e ben fatto secondo me se vi interessa potete acquistarvi pezzi a parte su Bricklink grazie mille io non vi dico quando ci vedremo perché ci vedremo presto immagino che domenica potrebbe arrivare una recensione con tutte le altre Speed Champions che ho comprato e che sono diventate veramente una droga per me arrivederci